Facebook, una realtà infinita di foto e messaggi che ogni giorno sono condivise e sbirciate per la curiosità di milioni di utenti. La fortuna del social network nato dalla genialità di Mark Zuckerberg è proprio questa, la condivisibilità dei contenuti di ogni natura. Ma la privacy dov'è? Molto spesso chi usa Facebook tende a sorvolare determinati avvisi sulla privacy, niente di più sbagliato. Tuttavia, secondo le discrezioni riportate da Wall Street Journal, l'impero di Zuckerberg potrebbe essere vicino al cambiamento più richiesto degli utenti di tutto il mondo. In seguito, infatti, a un accordo con la Federal Trade Commission, Facebook potrebbe passare dalla politica dell'opt-out a quella dell'opt-in. Ogni nuova funzione attivata per default a tutti verrebbe disattivata. Agli utenti viene notificata la loro esistenza, devono decidere solo automaticamente se sfruttarle o meno. Il social network, inoltre, dovrà sottoporsi per vent'anni a controlli sulla privacy da consiglieri indipendenti. Nel frattempo, Facebook è sottoaccusa dal commissario per la protezione dei dati di Hamburgo, Johannes Kaspar, per il riconoscimento automatico dei volti. La legge tedesca prevede che siano solo gli utenti a decidere liberamente se abilitare o meno una feature come quella annunciata da Facebook. Il sito avrebbe invece imposto agli iscritti la seccatura di dover andare a disabilitarla manualmente. Le prime ipotesi parlano di un possibile risarcimento pari a 300.000 euro.